La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà Molte se ne serviranno per offenderlo ed anche per perdersi. De mamma mia, deboni il piccolo Gesù nel cuore mio ed io ti prometto e giuro di amarlo sempre e di tenerlo come vita del povero mio cuore. Lezione della Regina del Cielo Figlia carissima, come ne sono contenta di tenerti vicino. Il mio materno cuore sente il bisogno di sfogare il mio amore, di confidarti i miei segreti. Sii attenta alle mie lezioni e ascoltami. Tu devi sapere che sono già 40 giorni che ci troviamo in questa grotta di Betlemme, la prima dimora del mio figlio qua giù. Ma quante meraviglie in questa grotta! Il celeste infante in una foga d'amore scese dal cielo in terra, fu concepito e nacque e sentiva il bisogno di sfogare quest'amore. Sicché ogni respiro, palpito e moto era uno sfogo d'amore che faceva. Ogni lacrima, vaggito e gemito era uno sfogo d'amore. Anche il sentirsi intirizzito dal freddo, le sue rabbrucce livide e tremanti, erano tutti sfoghi d'amore che faceva e cercava la sua mamma dove deporre quest'amore che non poteva contenere ed io ero in preda dell'amore suo. Sicché mi sentivo ferire continuamente e mi sentivo il mio caro piccino palpitare, respirare, muovere nel mio materno cuore. E lo sentivo piangere, gemere e vaggire. E restavo inondata dalle fiamme del suo amore. Già la circoncisione mi aveva aperto sparci profondi, dove mi versò tanto amore che mi sentivo regina e madre d'amore. Io mi sentivo rapita nel vedere che ogni pena, lacrime e moto che faceva il mio dolce Gesù cercava e chiamava la sua mamma come caro rifugio degli atti suoi e della sua vita. Chi può dirti, figlia mia, ciò che passò fra me e il celeste bambino in questi quaranta giorni? La ripetizione dei suoi atti insieme con me, le sue lacrime, le sue vene, il suo amore, erano come trasfusi insieme e ciò che faceva lui facevo io. Ora, essendo giunto il termine dei quaranta giorni, il caro bambino, più che mai affogato nel suo amore, volle obbedire alla legge e presentarsi al tempio per offersi per la salvezza di ciascuno. Era la divina volontà che ci chiamava il grande sacrificio. E noi, pronti, ubbidimmo. Figlia mia, questo fiat divino, quando trova la prontezza nel fare ciò che lui vuole, mette a disposizione della creatura la sua forza divina, la sua santità, la sua potenza creatrice di moltiplicare quell'atto, quel sacrificio per tutti e per ciascuno. Mette in quel sacrificio la monetina di valore infinito con cui si può pagare e soddisfare per tutti. Onde era la prima volta che la tua mamma e San Giuseppe uscivamo insieme col parcoletto Gesù. Tutta la creazione li conobbe il suo creatore e si sentirono onorati nell'averlo in mezzo a loro. Ed atteggiandosi a festa ci accompagnarono lungo la via. Giunti al Tempio ci prostrammo ed adorammo la Maestà Suprema e poi lo deponemmo nelle braccia del Sacerdote, qual'era Simeone, il quale ne fece l'offerta all'Eterno Padre, offrendolo per la salvezza di tutti. Il quale mentre l'offriva, ispirato da Dio, riconobbe il Verbo Divino ed esaltando l'immensa gioia adorò e ringraziò il caro bambino. E dopo l'offerta si atteggiò al profeta e predisse tutti i miei dolori. O come il Fiat Supremo dolorosamente fece sentire al mio materno cuore con suono vibrante la ferale tragedia di tutte le pene che avrebbe sofferto il mio Figlio Divino. Ogni parola era spada tagliente che mi trafiggeva, ma quel che più trafisse il cuore fu il sentire che questo celeste infante sarebbe stato non solo la salvezza, ma anche la rovina di molti ed il bersaglio delle contraddizioni. Che pena, che dolore! Se il volere divino non mi avesse sostenuta sarei morta all'istante di puro dolore. Invece mi diede vita per cominciare a formare in me il regno dei dolori nel regno della sua stessa divina volontà. Sicché col diritto di madre che tenevo su tutti acquistai anche il diritto di madre e regina su tutti i dolori. O sì, con i miei dolori acquistai la monetina per pagare i debiti dei figli miei ed anche dei figli ingrati. Ora figlia mia, tu devi sapere che per la luce della divina volontà che in me regnava, già conoscevo tutti i dolori che dovevano toccarmi ed anche più di quelli che mi disse il Santo Profeta. Anzi, posso dire che mi profetizzò i dolori che mi sarebbero venuti dalla parte esterna, ma dei dolori interni che più mi avrebbero trafitta. E delle pene interne passate tra me e mio figlio non ne fece parola. Ma con tutto ciò, in quell'atto così solenne dell'offerta di mio figlio, nell'utilismo di ripetere, mi sentii talmente trafitta che mi sanguinò il cuore e si aprirono nuove vene di dolori e squarci profondi nella limonia. Ora ascolta la mamma tua, nelle tue pene e negli incontri dolorosi che anche a te non mancano, quando conosci che il volere divino vuole qualche sacrificio da te, sii pronta, non ti abbattere. Anzi, ripeti subito il caro e dolce Fiat, cioè quello che vuoi tu, lo voglio io. E con amore eroico fa che il volere divino prenda il suo reggio posto nelle tue pene, affinché te le converte in monetina di infinito valore, con cui potrai pagare i tuoi debiti e anche quelli dei tuoi fratelli, per riscattarli dalla schiavitù dell'umana volontà e per farli entrare come figli liberi nel regno del Fiat divino. Perché tu devi sapere che il volere divino gradisce tanto il sacrificio da lui voluto dalla creatura, che le cede i suoi diritti divini e la costituisce regina del sacrificio e del bene che sorgerà in mezzo alle creature. Il Signore ha voluto la divina volontà, ha voluto che riuscissimo a fare questo piccolo cenacolo con questa meditazione oggi, che è il 16 gennaio. Siamo proprio più o meno a metà tra Natale e la festa della purificazione e la meditazione di oggi, che è appunto la terza appendice del libro della regge di Maria nel libro di Lina Volontà, parla proprio dell'episodio della purificazione, riapprofondisce e lo riprende e rielabora sotto ulteriori aspetti molto importanti e molto edificanti anche per noi. Lo ripercorriamo insieme, cercando di ritirare fuori, come sempre, alcune fonti di meditazione. Subito si può dire che il cuore, il vertice e ciò verso cui tende tutto quanto la Madonna ci ha detto in questo brano, è quell'espressione, no? Quello che vuoi tu lo voglio io. Il giorno in cui questa espressione diventerà proprio la legge suprema della nostra vita, attenzione che in quello che vuoi tu ci deve essere tutto, comprese le cose anche le più sante, che potenzialmente ci potrebbero dare dolori infiniti. Ecco, quando saremo giunti a questo grado avremo trovato davvero la pace del cuore. E' un passo del Cantico dei Cantici che dice che il Dio suona i suoi occhi come con lei che ha trovato pace. Con la pace proprio imperturbabile si troverà solo quando saremo giunti a questo livello. Quello che vuoi tu lo voglio io. Questo guarda nelle grandi cose e nelle piccole e quotidiane cose, anche nelle più sciocche e apparentemente casuali o insignificanti. Quello che vuoi tu lo voglio io. Ho preso i piccolissimi incidenti della vita quotidiana, gli imprevisti, i momenti complicati, eccetera. Diamo con ordine. Il brano comincia con una serie di considerazioni riguardanti gli sfoghi d'amore di Gesù. Questo è un tema molto diffuso negli scritti sulla linea volontà, se li conosciamo un pochino. Ma sapete che lo sfogo è una necessaria fuori uscita, via di uscita, di qualcosa che è in atto e che se non trova uno sfogo esplode. Come una sorta, non la chiameremo oggi, di pentola a pressione. Cosa significano tutte quante queste cose? Che una delle funzioni fondamentali che ci ha avuto la Madonna e che purtroppo è una riparazione, un supplire a ciò che gli esseri umani non fanno era di accogliere tutto l'infinito mare d'amore che il nostro Signore ha e che pare che gli uomini hanno altro a cui pensare. Non lo vogliono, non lo accogliono. Quando noi pensiamo a Dio, questa è un'immagine molto chiara che viene da questi scritti, evidentemente non è altro che una puntualizzazione, una decodificazione di quello che San Giovanni ci dice nelle sue lettere. Dio è amore, Dio è amore, Deus est, Deus caritas est. Ci ha preso anche il titolo a un'encirica del parlo emerito, benedetto, no? Quindi, e in un certo senso, secondo il nostro modo di pensare e di parlare, certamente, insomma, bisogna essere sempre molto budenti nell'attribuire certe cose all'altissimo, il dramma di Dio è che c'ha una, come dirò, un'infinità di amore, di grazie, di beni da dare e non si riprende nessuno, non trova chi dare, non c'ha una valvola di sfogliere. Questo, insomma, io ho qualche difficoltà a parlare in questi termini, ma lo dice Gesù qui. E la Madonna si è ripresi tutti. La Madonna si è ripresi tutti. Quindi, quando noi pensiamo a tante cose, c'è devo dire, devo dire, in una divina volontà, che cosa dovrò fare, noi pensiamo subito che cosa devo fare, in carità ci sono anche tante cose da fare, ma la prima cosa non è fare, è ricevervi, è accogliervi. San Giovanni stesso che ci aveva capito, su Giovanni l'apostolo prediletto di Gesù è campato circa 25 anni, beato lui, cuore a cuore per una lombra, insomma, su questa scienza ci aveva capito qualcosa, no? E lui diceva, noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo, tu non ami nessuno, nessuno, né te stesso, né Dio, né il prossimo, se non hai fatto il pieno dell'amore di Dio. Non so chi di voi l'ha sentito ieri sera, ho cominciato con questo nuovo ciclo di catechesi, questo sarà proprio il filo, perché questo è il filo conduttore, Maio ha quasi 50 anni, tutti i problemi dell'essere umano sono solo problemi di amore, solo di amore, di amore cercato, frustrato e non ricevuto e quindi assoluta incapacità di darlo, di prenderlo, di riceverlo e quindi da questo tutti i disastri, tutte le tragedie, tutte i quanti dolori, tutte le situazioni di morte possibili e immaginabili, solo da questo, è solo questo il problema. E la Madonna è tutto quello che è, perché lei ha fatto il pieno, quando si dice, la vera piena di grazia, ha fatto il pieno, ha detto qua andiamo a fare benzina, che facciamo il pieno, se le ha prese tutte, ci sono dei passaggi, degli iscritti, noi a primo approccio, la nostra intelligenza fa un po' di fatica, bisogna andarsela a prendere le grazie che il Signore ci ha dato, prenderle, è come se uno ci avesse un vaglia postale, mi sa che nei giorni scorsi per la prima volta in Italia ho ricevuto un vaglia postale, ancora esistono queste cose, che se lo faccio che fosse, cioè se tu c'è un vaglia postale, devi andare alle poste, devi dargli il numero, devi dargli la parola d'ordine, devi dire che chi, per prenderlo, ecco, è un esempio proprio sciocco, ma è così, se tu non vai a prendere il vaglia postale, anche il vaglia postale, se non far capire le cose dell'altissimo, ma è proprio, era perché il bonifico daria comunque, capito, cioè il bonifico non ti fa capire bene, il bonifico, se tu fai un bonifico, quella prima, ma non cosa succede, e invece il vaglia postale no, argomento di meditazione, perché devi andare alle poste a prenderlo, dici, se non faceva il bonifico, no, ecco, il nostro Signore non ci fa il bonifico, ci fa i vagli apostali, devi andare, devi fare la fatica, e la fatica, insomma, cioè, se ti arriva a 10 miliardi di euro, ti fa 5 minuti di tira le poste, 10, ma posso sburmurare, ma sono 10 miliardi di euro, che toglie la piazza, questo dobbiamo fare, la Madonna ha chieppato tutto, ha fatto piazza pulita, si le ha prese tutte, quelle sue, e quelle di tutto il genere, ma tutte quelle, che gli uomini si sarebbero prese, capito, se tu fai così, comunque fai, a non essere, a tua volta, vedete che cosa dice, tutti i sfoghi d'amore che faceva, e cercava la sua mamma, dove deporre questo amore, che non poteva contenere, Dio ha creato, per questo stesso motivo, cioè, questa è una chiesa, l'ha sempre insegnato, Dio non aveva nessuna necessità, di fare niente, capite, l'unica causa, diciamo così, della creazione, è questo sfogo d'amore, essendo così, rivieto, l'amore di vita, metterlo da qualche parte, anche fuori di sé, sarebbe come per dire, insomma, queste sono tutte pazzie, speriamo che il Signore mi perdone, sarebbe come se, la stessa Trinità, che è infinita, cioè, che tutto sia infinita, è un mistero, però, in qualche modo, è così, noi queste cose, qui in questa terra, le capivamo, entro certi limiti, no? Ecco, quindi, lei si è preso tutto, per sé, e per tutti, non soltanto per sé, ma anche per tutti, e questa è la prima parte, poi c'è l'episodio, della presentazione di Gesù al Tempio, e qui, c'è l'obbedienza alla legge, presentarsi, e una nota, era la divina volontà, che ci chiamava il grande sacrificio, e noi pronti ubbidimmo, quindi, cosa dice questo testo? La prima cosa, che la divina volontà, sicuramente vuole, è che tu faccia il pieno, di tutto quanto l'amore, che ci ha dato l'alti, questa è la prima cosa, poi c'è la seconda, questa ci piace un pochetto di meno, ci chiama il grande sacrificio, e noi pronti ubbidimmo, il sacrificio, il mistero della presentazione, di Gesù al Tempio, della purificazione di Maria, è proprio per antonomasia, è il mistero del sacrificio, perché lì si compieva un sacrificio, per fare questo gesto, perché bisogna offrire una, credo che ricordate, ricordiamo un intanto, poi ricorderò anche il 2, però, le vedete aiuto, c'era una legge di Israele, siccome Yahweh, la notte in cui fece uscire gli israeliti, fece la strage di tutti quanti, i primogeniti dell'Egitto, uomini, bestiame, tutto, un grido si levò in Egitto, dice l'ipotele, solo come mai c'era stato, e mai si sentirà, la tragedia, il ricordo di questo fatto, cioè che Dio aveva steso la sua mano potente, il suo braccio, per liberare il suo popolo, compiendo questo gesto estremo, ogni primogenito maschio, anche per gli ebrei, sia degli animali, che degli uomini, era sacrificato, era appartenente al Signore, quindi per poterlo trattenere, presso l'idee, dove gli offrì un sacrificio sostitutivo, questo era il gesto della prestazione al Tempio, quello non è tuo, cioè perché ogni maschio primogenito è di Dio, vuoi portarti a casa, il tuo bambino, dovete portarti a casa, devi andare nel Tempio, offri un montone, offri un, a seconda di quanti soldi ci avete, un montone, un bue, o come nel caso di Giuseppe e Maria, i poveretti, una coppia di tortolo di giovani colombe, dice il Vangelo di Luca, per cui era il sacrificio dei poveri, ma comunque il gesto dovevi compiere, era un rito sacrificabile, ma quel rito sacrificale, perché Dio quando opera, la straccia dei primogeniti, quindi per liberare il popolo dalla schiavitù, cioè la morte per tutti i quanti primogeniti, che significa questo episodio? che per liberare noi dalla schiavitù del peccato, sarebbe dovuto nascere il primogenito in senso biblico, cioè l'unigenito figlio di Dio, per essere ammazzato, per essere offerto il sacrificio, perché fosse uno per tutti, o così o rimaniamo eternamente nei guari. per me personalmente, uno dei passaggi più commuventi e più forti delle ore della Passione, è l'ora diciassette, quando Gesù viene rappresentato, ecce omo, davanti agli israeliti, e noi tutti quanti pensiamo che, uh, quei disgraziati hanno detto a morte, a morte, sia crocifisso, io no, tu sia come, e poi a te se non lo dici, ci sono dei passaggi drammatici, Dio padre dice, figlio ti voglio morte e morto crocifisso, io una volta che allessi quella cosa, Dio, la Madonna, dice figlio ti voglio morte e morto crocifisso, sì, e a un certo punto quella voraccia di Luisa dice, lo devo dire pure io, lo devo dire pure io, la tragedia, spero che quando le decidiate, insomma, deve prendere un colpo, perché dobbiamo dirlo pure noi, e poi Dio dice, ma come che siamo morti, cioè, io vorrei che non fosse mai morto, Gesù mi dispiace un sacco, ma non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, non c'è altro sistema, altrimenti il nostro Signore ne avrebbe trovato un altro, quindi, ecco, il sacrificio, quando il nostro Signore ci chiede qualche sacrificio, non è, come purtroppo il nemico della nostra salvezza ci suggerisce, cioè, idea suggerita dal basso, al cristiano, che cosa brutta al cristiano, mamma mia, bisogna soffrire tanto, bisogna fare i digiuni, bisogna fare le veglie, non si possono godere liberamente i piaceri della vita, è questo o no, è questo o no, mamma mia, guarda, comincia a vivere un po' un po' a divertire, un po' a fare qualcosa, insomma, queste sono le catechesi che vengono dal basso, le catechesi che vengono dall'alto, ringraziamo il Signore che, abbiamo fatto questo riferimento a quella della passione, ci dicono che il sacrificio, certamente Dio, se Dio, se non fosse necessario, in paradiso non ci sono sacrifici, nessuno soffre, né in zero, in nessun modo, né nel corpo, né nell'anima, anzi, d'accordo, ma qui in questa vita non è possibile farlo, non si può, e noi anche, guardate, gli oli miei carichi, io ci penso, ci ripenso, ci penso, ci ripenso, ma, la percezione reale, profonda, di qual è, proprio l'autentica condizione, in cui siamo in questa terra, ce l'abbiamo, se ascoltiamo con il Signore della Chiesa, entro certi limiti, ma, non ne abbiamo, una visione, perfetta, chiara e distinta, forse perché il nostro Signore, ce l'ha occulta, perché se ce l'avessimo, e dissoglissimo lo sguardo, dall'altissimo, penso ci prenderebbe un colpo, quindi in questo mondo, quando Dio ci chiede qualcosa, è perché è necessario, quando dona o permette, questo non sempre siamo in grado di distinguere quella cosa, Dio l'ha voluta, con la volontà sua, o l'ha permessa, tanto, voluta o permessa, davanti, ce l'hai, quindi questo, è un grande, principio di sapienza, e anche di sano discernimento, confrontarsi sempre con i fatti reali, quindi quelli che ci sono, d'accordo, quindi, tanto poi, se non siamo in grado di penetrare le motivazioni profonde, cosa che è molto difficile, comunque siamo sempre in grado di interfacciarsi con i fatti, quando c'è un sacrificio, una tribolazione, una propria, Dio non l'avrebbe assolutamente permessa, perché ha il potere di farlo, se non fosse una cosa buona, utile o necessaria, perché Dio ha soltanto queste tre cose, buone, utili o necessarie, non fa né cose cattive, né cose inutili, né cose non necessarie, non le fa, ecco, il problema è che c'è l'interfaccia della reazione dell'essere umano, che fai tu, innalzi il sacrificio, piccolo, questo doveva pare per le piccole, come per le grandi croce, dici sì, o dici no, ti ribelli o lo accogli, questo vale anche per le considerazioni di stretta attualità, che speriamo quando qualcuno sentisse questa validazione, tra 4 o 5 anni diventeranno già ricordi, no? E attenzione, la Madonna aggiunge che quando il Fiat trova prontezza a fare ciò che gli vuole, attenzione è prontezza, pensiamo all'espirazione, viene in mente anche, subito si fa, quando viene in mente una cosa che viene dal nostro Signore, ricordiamo i brani evangelici, eh, passa Gesù, seguitemi, subito, lasciate le reti, lo seguiro, con il nostro Signore nel secolo di, aspetta, domani, messa di ieri che c'è stato, oggi, no, ieri o l'altro, ieri, oggi, 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 se oggi ascoltate la sua voce, ascoltate oggi la sua voce, salmo 94, tutte le mattine, oggi subito, con Dio, noi abbiamo il motto, noi vorremmo tutto e subito, sempre, ah, ma con Dio questo è, tutto e subito, Dio vuole tutto e subito, e se sei intelligente, vuoi parlare, però abbiamo dato tutto e subito, sempre al nostro Signore, se fai così, se trova questa prontezza, la Divina Volontà, dice la Madonna, mette a disposizione della creatura, la sua forza divina, la sua santità, la sua potenza creatrice, di moltiplicare quell'atto, il suo valore, quel sacrificio per tutti e per ciascuno, addirittura, mette in quel sacrificio, la monetina di valore infinito, con cui si può pagare e soddisfare per tutti, questo è il prodigio dei prodigi, dell'operano, nella Divina Volontà, nella misura in cui, ripeto, si trova nella creatura, la prontezza, Dio prende quell'atto, un offerto con generosità, con spontaneità, con orresimo a volte, e lo moltiplica, facendo fuoriuscire, spargendo da esso, montagne di grazi, di benefici per tutti, e questa è stata la vita della Madonna. Ora, terzo passaggio, si arriva al Tempio, al Tempio con la profezia di Simeone, e qui la Madonna ci rivela qualche cosa dei misteri dei suoi dolori, sapete che questo mistero qui, se qualcuno ha la via devozione, che io incoraggio fortemente, di recitare la corona della dolorata, saprà che questo era il primo dolore di Maria, secondo lui, questa bella devozione, che ricordo, non permetterò un laccio, ma per dare un suggerimento, perché qua la Madonna ci lascia liberi, e non vuole che facciamo le cose per forza, ma nelle apparizioni di Chibeo in Africa, la Madonna ha chiesto, a chi se la sente ovviamente, a chi vuole accontentare, a farla contenta di recitare, questa corona della dolorata, tutti i martedì e venerdì, proprio per la conversione dei peccatori, quindi offrire a Dio i suoi dolori, perché le persone che non lo conoscono, si riavvicinano a Dio e si convertano. Quindi questo è il primo dei sette dolori, e la Madonna certamente dice che ogni parola che ha detto quel santo, quegliato ispirato, era una spada che li trafuggeva, però, però, oltre a quei dolori esterni, la Madonna parla di dolori sconosciuti e interni. Primo dice che quel che più mi travisse il cuore fu il sentire che questo celeste infante sarebbe stato non solo la salvezza, ma la rovina di molti, e il bersaglio delle contraddizioni. Quindi il dolore di Maria, più ancora di quelli che avrebbe dovuto soffrire lei come madre di Dio, fu il sapere, purtroppo, che il figlio, mandato con tanto amore, per il bene di tutti, Sant'Omaso direbbe, direbbe, per accidente, sarebbe diventato la rovina di tutti. Questo è un tema drammatico della nostra santa fede, che va affrontato certamente con calma e senza farsi prendere da panici, paure, disperazione, ma reale però, molto reale. Cioè, che se l'uomo non accoglie i doni e la salvezza del Signore, paradossalmente, purtroppo, quei doni diventano causa ulteriore della sua rovina. Purtroppo. È così. Noi abbiamo bisogno di essere salvati. Questa è una condizione in cui l'uomo è caduto dopo il peccato, ci creda, non ci creda, ti piaccia, non ti piaccia, lo voglio, non lo voglio, sia d'accordo, non sia d'accordo, può fare quello che vuole. Dio ha dato la sua offerta, ha teso la sua mano, la prendi con la mano, bimbo, non la prendi con la mano, tragedia. Non ci sono oltre. Cioè, alla fine, lo capite, no? Il purgatorio esiste certamente perché è un dogma di fede. Il limbo non è un dogma di fede e siamo liberi di crederci o di non crederci che esista. In ogni caso, sia che esista solo il purgatorio, sia che esista soltanto al purgatorio, più nel limbo, alla fine della storia rimangono paradiso e inferno e basta. Cioè, il conseguimento del motivo per cui siamo stati creati oppure il fallimento oppure il fallimento, l'eterna beatitudine o l'eterna dannazione, l'eterno godimento o l'eterna sofferenza. la Madonna che ha un cuore tenero perché è un cuore femminile meraviglioso è la quintessenza di ciò che nella donna di più bello c'è perché oggi le donne ce l'hanno ma mischiato agli aspetti meno positivi dell'essere così come gli uomini diciamo, gli aspetti positivi dell'essere uomo negli aspetti negativi dell'essere donna purtroppo ma la donna è bellissima perché la donna è la quintessenza dell'amore la donna soffre molto perché soffre per i dolori altrui la donna soffre di più per i dolori del figlio che per i dolori propri molto di più e per cui la Madonna cioè vedendo vedendo la dannazione di molte persone cioè fa suoi dolori di questi proviamo a immaginare quanto come se fosse la nascenza in medesima capite cioè si eravati suoi cioè allora che dici ah beh ecco hai ripetato il vostro signore sei andato all'inferno sei cercato a lui no e soffre per questo tanto abbiamo gli esempi insomma di questa cosa qui voi sapete negli ultimi 50-60 anni ci sono tanti fenomeni di lacrimazione alcuni sono autentici sono stati riconosciuti dalla chiesa molti altri sono ancora in corso insomma di analisi di studio perché piange la Madonna per questo perché perché vede andare le nostre generazioni specialmente i nostri tempi così travagliati verso il bar attraverso l'abisso verso la separazione da Dio in terra e purtroppo anche oltre la terra quindi vedere che perché Gesù non è venuto per essere la rovina di molti Simoni dice egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele ma per quanto dipende da Gesù lui era qui solo per la resurrezione di molti il diventare rovina ripeto Sant'Omaso lo chiamava un effetto per accident cioè non è ciò che Dio vorrebbe ma è la conseguenza del rifiuto dei suoi disegni è come l'Eucaristia l'Eucaristia è il pane della vita se non mangiate la mia carne non bevete il mio sangue non avrete in voi la vita però chi si accosta indegnamente al corpo del Signore scrive San Paolo mangia e beve la sua contanna cioè il farmaco dell'immortalità come chiamavano i padri della Chiesa si trasforma in velemo ma non perché cambia il farmaco perché cambi tu perché cambiano le disposizioni con cui tu le ha assolto ecco questa è stata veramente una grandissima sofferenza per la Madonna addirittura dice se il volere divino non mi avesse sostenuta sarei morta all'istante di buon dolore il cuore tenero della Madonna della sofferenza che lei sente per tutte le anime che purtroppo e ci sono purtroppo e questo è l'attestato che ci sono è una grande tragedia una grande follia ma se noi pensiamo che tante volte ci penso il male in sé è follia sapete quante volte mi confesso il pezzato dico ma ma dico ma Lucifero ma come ti è provato in mente a fare una cosa del genere ci ha rappresentato tutti quanti ma poi sapendo perché l'ho studiato e questo sapeva perfettamente tutto quello cioè è una cosa io non ci riesco a capire non sfugge proprio dal come fa così come fa una persona fino all'ultimo a rifiutare tanto amore non è uno che può fare un sacco di gente accampata senza la missa senza l'uomo è essendo battezzata ci sei poveraccio uno non fa parte della chiesa non c'ha uno sto grande dono non lo sa ma come fa sono domande misteriose sono tra le tante cose che non si riescono a capire in questa vita però purtroppo non possiamo negare che siano cose reali e ci sono tante tanti indizi tante spie insomma che da quello possiamo comprendere la Madonna qui poi al centro chiude questo con i dolori interni molto più grandi di quelli esterni e anche qui chi di noi ha fatto un pochino esperienza i dolori dello spirito dell'anima sono infinitamente più grandi di quelli del corpo o di quelli esterni qui diceva Santa Teresa chi l'ha vissuto lo sa bene no? io rileggevo un brano di Luisa nel primo volume proprio nei primissimi passaggi che sto rileggendo tutte le cose e cominciavo subito con le privazioni Gesù dice queste testuali non esiste dolore più grande che io possa dare alla creatura non c'è che privarla di me non c'è quindi se tu hai visto hai conosciuto cosa è stare un attimo con il nostro Signore te lo toglie tu puoi pensare a tutti quanti malivatture tutte le malattie tutti i coronavirus tutto quello che ti pare d'accordo? tutte le cose più orribili che possiamo immaginarsi non è niente in confronto a essere prima di lui niente e quello è un brano esterno è interno perché se non hai la percezione sensibile della presenza di Gesù stai male nel cuore non è che soffre perché c'è una malattia non è che stanno a menare perché ti stanno squarciando ti stanno torturando è un brano interno i brano interno sono molto più grandi di quelli esterni e allora la Madonna conclude concludiamo anche noi come sempre queste sono meditazioni la Madonna che è sempre una grande maestra perché la meditazione non rimane mai campata per aria c'è sempre una applicazione concreta e quindi qualche cosa che poi deve incidere nella nostra vita chiaramente la Madonna è una grande maestra spirituale grandissima è utile dirlo ora ascolta la mamma tu che ci fai con tutte queste cose che ti ho detto come le metti in patica nelle tue pene negli incontri dolorosi sto citando quando conosci che il cuore divino vuole qualche sacrificio da dentro sii pronta pronta questa è la parola d'ordine di oggi non ti abbattere non ti abbattere anzi ripeti subito ripeti subito il caro e dolce fiat cioè ecco il vertice da cui siamo partiti quello che vuoi tu lo voglio io quindi può darsi che il nostro signore ci chiede qualche sacrificio che chiede proprio può essere un sacrificio volontario cioè ti chiede un'offerta quella la devi fare tua oppure ti mette davanti una sofferenza che non è il tuo potere toglierte là però la devi accettare oppure incontri dolorosi ti mette davanti una persona e te la vado a incontrare imprevisti situazioni della vita ecco lì c'è da dire fiat non come una un modo di dire ma come una realtà da mettere in atto sia fatta la tua volontà se dimmi capire quello che vuoi tu lo voglio io dice con amore eroico fa che il volere divino prenda il suo reggio posto nelle tue pene dobbiamo monetizzare le pene perché te le converta in moneta di infinito valore con cui potrai pagare i tuoi debiti perché ci abbiamo tante cose da pagare noi e anche quelli e i tuoi fratelli per riscattarli dalla schiavitù dell'umana volontà e per farli entrare come figli liberi nel figlio del figlio questa sapienza cioè tutti quanti i santi questa è stata sempre insegnata cioè noi abbiamo la sapienza della croce in questo mondo in questo mondo tutti quanti i santi ma non è ho già fatto prima insomma la sintesi della catechesi del diavolo perché siccome questo è un punto cardino della nostra fede chi vuol venire dietro di me ne chi si stessa prende la sua croce ogni giorno e mi segua ha detto Gesù è questo perché perché quella cosa è necessaria d'accordo non è contento il nostro Signore di vederci soffrire di darci le croce lui ce la tuierebbe tutti se questo fosse possibile per noi è possibile in teoria è possibile in astratto perché di tutto è possibile ma non sarebbe bene per noi quindi se non essendo bene cioè Dio sapete che il mare non lo fa per nessun motivo non lo fa e quando vede che una cosa è per il bene che tu capisci o non capisci che ci credi o non ci credi che l'accetti o non accetti lui per quanto lui la fa capite che questo ci dà anche e concludo un modus operandi universale che era quello che diceva Santa Teresa quanta gente capisce quello che Dio fa quasi nessuno quanta gente ascolta quello che Dio dice quasi nessuno quanta gente accoglie tutto da tenere credibilità quasi nessuno cosa fa Dio fa lo stesso fa lo stesso ecco perché quando a Santa Teresa andavano a dirgli scusate la stazione di Finimondo che dobbiamo fare fatti santo tu e mi faccio santo io finito ma come resta il governo lascia la mente il governo fatti santo tu ma come resta la chiesa lascia la mente la chiesa fatti santo tu e faccio santo io finito questo è proprio un modus operandi nella divina volontà che non è attenzione perché ma così uno si disinteressa così uno non agisce non interviene non opera non combattere no è semplicemente un cambiare tattica ci sono i generali militari che fanno la guerra tu c'è un problema devi conquistare un obiettivo io non sono uno stratega militare insomma so queste cose come a livello di conoscenza superficiale no sapete benissimo chi è che vince chi è che vince la guerra chi ha una buona tattica capito perché c'hai dei nemici che non è che arrivi tu e ti stanno a guardare no quelli faranno di tutto per non farsi vincere da te e so forti non è che sono dei quindi se tu non hai una buona tattica o se preferiamo una buona tecnica tu perdi i romani non ho vinto mezzo anno conquistato il mondo sapete perché con la testugine se siamo nei tempi si sono inventati quella cosa quando non c'erano le bombe le cose come fai tu a ammazzare qualcuno se riescono a fare ad avanzare facendo uno squadrone compatto che mettono gli scudi in modo tale che ci passa ma con una freccia all'inmezzo come li ammazzi a quelli non li ammazzi è possibile non ci puoi fare niente non ci puoi fare quindi si tratta di buona tecnica si tratta di buona tattica e chi è il maestro delle tattiche è il nostro signore noi dobbiamo per quanto possibile vedere quello che Dio fa per quanto possiamo conoscerlo e fare quello che abbiamo visto vedere quello che Gesù ha fatto e fare quello che Gesù ha fatto vedere quello che la Madonna ha fatto intanto queste sono tutte quante dimensioni come dire intescambiabili che vanno come dire per gradazioni Dio è l'altissimo Gesù si è fatto un pochino più comprensibile facendosi uomo la Madonna è una pura creatura ma intanto lì l'accordo perché la divina volontà c'è in Dio la divina volontà c'è in Gesù e la divina volontà c'è la Madonna quindi si tratta semplicemente di gradazioni ma la sostanza è sempre la stessa questo è molto importante perché se vogliamo santificarci in questo modo appunto si tratta di assumere stili e modi di fare non umani ma divini contemplando quello che ci è stato detto e ci è stato mostrato e cercando il quanto possibile di fare altrettanto grazie